Michele Iorio, a distanza di un anno la Piana dei Mulini, con quali obiettivi e con quali strategie? Si tratta di rilanciare la politica del centrodestra molisano, un centrodestra che ha avuto la responsabilità di governo per tanti anni in questa regione, ha il dovere di rinvigorire le proprie fila e ha anche il dovere di rappresentare una prospettiva. In questo senso Piana dei Mulini può servire rafforzando Forza Italia. Alcuni pezzi importanti del centrodestra però si sono dissociati apertamente. Qual è la sua opinione? Non ho capito tutte le motivazioni perché si tratta di discutere, di stare insieme, di ridare entusiasmo ad una politica che deve essere assolutamente rappresentata. Comunque ci sarà modo di capire meglio. Un amministratore di lunga durata cosa lascia? Quali esperienze può trasmettere a una futura classe dirigente del centrodestra? Beh, tantissimo. Io credo che sia un dovere per uno che ha maturato tanta esperienza trasmettere quali sono le problematiche, le esigenze di un territorio, di un popolo. In un momento così difficile bisogna avere le idee chiare, soprattutto la forza di poterle rappresentare. Non importa se dalla maggioranza o dall'opposizione. Anche dall'opposizione si ha il dovere di costruire. Qual è il futuro di Michele Iorio? Che farà Michele Iorio? Io farò politica. Ho sempre detto che non avrei mai e comunque rinunciato a fare politica. Dalla politica ho avuto tanto, da questa regione tantissimo. Tante soddisfazioni. I molisani mi hanno dato modo di poter agire, di poter operare. E io credo che debba loro una risposta. Ho il dovere di rappresentare una prospettiva per il futuro, favorendo il rinnovamento e l'ingresso di tante persone, giovani e meno giovani, che non si sono mai dedicate alla politica. Michele Iorio non guarda più alla regione, però. No, non è mia intenzione. Ripeto, le soddisfazioni sono state tante. Il periodo è stato così lungo e bello, devo dire, ma si può fare politica in tanti modi. Non sento assolutamente la nostalgia del ruolo. Un suo giudizio sul governo Letta. Il governo delle larghe intese. Era necessario, ma non entusiasma. Una domanda è d'obbligo. Cosa pensa dei primi 180 giorni dell'attuale amministrazione regionale? Beh, non entusiasma e non era nemmeno necessario, devo dire. Quindi credo che, almeno fino a questo momento, il giudizio è assai negativo. È vero che sono solo pochi mesi, ma se si continua così, io credo che questa regione perde di giorno in giorno l'occasione di dare alcune risposte. Non quelle risolutive, perché la bacchetta magica non ce l'ha frattura come non ce l'ha nessun altro governo in questo momento. Ma ci sarebbe bisogno di un approccio diverso nei confronti dei problemi e un senso di apertura, di discussione, di partecipazione che sicuramente non si avverte.